Il marito della Clerici. Prima di iniziare il video, ti ricordo l'importanza di premere il pulsante, iscriviti e di lasciare un mi piace. Apprezzo il tuo supporto. Eddie Martens ha condiviso una storia unica, insieme ad Antonella Clerici per un decennio, dalla quale è nata la loro preziosa figlia, l'unica di Antonella. Il destino ha unito Eddie Martens e Antonella Clerici nel lontano 2006, durante un incontro avvenuto in Marocco. Inizialmente, i due sono stati oggetto di grande attenzione mediatica, a causa della differenza di età, poiché Martens era più giovane di ben 15 anni rispetto a Clerici. Successivamente, Martens è stato oggetto di critiche, per la sua occupazione come autore televisivo nel programma della sua compagna. Inizialmente, molti non credevano che la loro relazione potesse durare, ma si sbagliavano. Infatti, i due sono rimasti insieme, per un intero decennio. Purtroppo, il loro amore ha avuto una fine dolorosa, a causa di presunte infedeltà da parte di Antonella. Da allora, Martens è tornato a vivere in Belgio, e ha ricostruito la sua vita. Attualmente, lavora come barbiere, e ha trovato la felicità al fianco della sua nuova compagna, Carmen Carrasco. Oggi, Antonella ha dichiarato che i rapporti tra loro sono pacifici e sereni, tutto per il bene della loro adorata figlia, Mael. Antonella ha elogiato Eddie per essere un bravo padre, anche se la distanza geografica rende difficile la sua presenza costante nella vita della loro figlia. Martens ha ammesso di essere addolorato dal fatto di non poter vedere Mael spesso, ma ha sottolineato che non gli manca nulla in Belgio, a parte la sua piccola principessa. In un'intervista, ha confessato di provare nausea, solo al pensiero di non poter essere presente nella vita di sua figlia. Quel periodo è stato estremamente difficile per lui. Purtroppo, Eddie ha dovuto affrontare anche offese razziste, provenienti dall'Italia. Tuttavia, ha chiarito che non gli manca niente in quel paese, se non la possibilità, di trascorrere più tempo con sua figlia. A causa della sua residenza a Bruxelles, con la sua nuova compagna, non possono vedersi tutti i giorni. Per rimanere aggiornato su altre notizie, ti invito a iscriverti al nostro canale e a lasciare un mi piace.